protestano gli avvocati italiani contro le modalità con le quali è stata posta all'esame approvazione del senato la riforma del codice penale di procedura anche la camera penale di ragusa aderita all'assenzione delle udienze fino a venerdì il parcheggio nell'area adiacente al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di modi che da lasciare sgombero sono le parole del manager dell'asp 7 di ragusa maurizia ricò dopo la segnalazione di un telespettatore che ha trovato la multa IRG la giunta comunale di palazzo dell'acqua ha avviato il percorso per predisporre lo schema di massima che successivamente sarà sottoposto al vaglio del consiglio comunale ieri era scaduto il termine per le osservazioni troppo degrado in viale Kennedy a Catania la denuncia arriva dal capogruppo di grande Catania Giuseppe Castiglione che lancia un appello all'amministrazione comunale Castiglione chiede un intervento urgente Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su video mediterraneo in apertura parleremo della camera di penale anche la camera di penale penale di ragusa aderito all'astenzione dalle udienze indetta in ambito nazionale udienze a rischio quindi sino a venerdì prossimo anche al tribunale di ragusa dove si terranno solo i processi per direttissima e quelli che prevedono la presenza di detenuti ce ne parla Carmela Minardo anche al tribunale di ragusa gli avvocati penalisti hanno aderito alla protesta indetta in ambito nazionale contro la riforma del processo penale a distanza udienze a rischio quindi sino a venerdì anche nel territorio ebleo dove secondo le modalità generali della protesta si terranno solo i processi per direttissima e quelli che prevedono la presenza di detenuti l'agitazione riguarda soprattutto le modalità con cui è passato il disegno di legge a palazzo madama nonostante il parere contrario dell'avvocatura il consiglio dei ministri ha deciso di porre la fiducia in senato decisione del governo che ha portato l'unione delle camere penali a indire lo sciopero per cinque giorni gli avvocati del foro ebleo hanno spiegato che nel processo nei diritti dei cittadini possono essere merce di scambio di alcuna contesa di potere tantomeno stagio di conflitti di natura elettorale al fine di scongiurare una gravissima compressione nel dibattito democratico che si avrebbe adottando il sistema della fiducia nell'ambito di una riforma così vasta e complessa nella delicata materia del processo penale che coinvolge le garanzie di libertà costituzionali di ogni cittadino l'imputato infatti non sarà più nell'aula di giustizia di fronte al giudice che lo dovrà giudicare al fianco dell'avvocato che lo assiste ma dematerializzato in una stanza del luogo della struttura penitenziaria dove custodito collegato a distanza con l'aula del tribunale contestata anche la sospensione del termine di prescrizione dei reati dopo la condanna di primo grado e dopo quella di secondo nei casi di ricorso in cassazione la decisione di porre la fiducia anche a montecitori ha portato la giunta delle camere penali a indire un'ulteriore astensione dal 10 al 17 aprile di tutt'altro avviso su questo progetto di riforma la posizione dei magistrati e delle associazioni che si battono in favore delle vittime dei reati entrambe le parti condividono la critica al voto di fiducia ma su questo versante anche il nuovo regime della prescrizione si rivela un regalo agli imputati eccellenti mentre le videoconferenze serviranno ad evitare costosissimi tour penitenziari e inoltre continuerebbe a mancare nella riforma il vero contrasto alle cause della lunghezza dei processi le notifiche affidate ancora agli ufficiali giudiziari la gravissima carenza di organico nelle cancellerie l'abnorma numero di processi inutili per reati che sarebbero meglio perseguiti con sanzione amministrativa è stata fissata al 17 maggio l'udienza per il ricorso contro il fallimento dell'aras notificato il 3 marzo scorso dal tribunale di palermo questa settimana intanto ci saranno diversi incontri tra palermo e roma per definire il futuro lavorativo di 112 persone serve una soluzione in tempi brevi per garantire i controlli nel settore della zootecnia e salvare 112 posti di lavoro dell'associazione regionale degli allevatori siciliani dichiarata fallita il 3 marzo scorso dal tribunale di palermo il 17 maggio è stata fissata l'udienza a seguito del ricorso presentato dall'aras contro il sequestro delle sedi ma in attesa i lavoratori non possono stare con le braccia incrociate e gli allevatori non possono ancora aspettare la certificazione della salubrità del latte e tutti i servizi che solo l'aras può espletare secondo l'assessore regionale agricoltura antonello cracolici considerato che per legge l'aia deve garantire i controlli deve essere formata una nuova associazione con i 112 dipendenti dell'aras per i controlli a livello regionale perché sebbene ci sia una causa a riesame sul fallimento dell'aras l'assessorato la considera già una realtà morta secondo invece del presidente della commissione bilancio all'arsa e vincenzo vinciullo si potrebbe formare un nuovo polo zootecnico costituito da corfilac istituto zootecnico e istituto dell'incremento ippico di catania l'obiettivo è comunque salvare i posti di lavoro domani i sindacati e l'aia si incontrano a roma per definire le linee guida da sottoporre all'attenzione dell'assessorato regionale all'agricoltura c'è la crona che è stato arrestato uno studente incensurato e sono stati segnalati due assuntori questa mattina dai carabinieri della compagnia di ragusa in possesso del giovane sono stati trovati 1800 euro provento dell'attività di spaccio un insospettabile studente di 21 anni incensurato è stato trovato in casa con il bazar della droga che gli ha fruttato 1800 euro il blitz nelle prime ore della mattina dei carabinieri della compagnia di ragusa ha permesso di rinvenire 50 grammi di marijuana e 16 di cocaina alcuni già divisi in dosi 1800 euro manconote di piccolo taglio frutto della fiorente attività illecita tra l'altro in casa del giovane c'erano altri due ragazzi che sono stati segnalati al prefetto per il possesso di modiche quantità di marijuana per uso personale è indispensabile e proficuo l'intervento del canante droga Indic che con il suo affiuto ha consentito di trovare lo stupefacente detenuto dall'arrestato ben nascosto sopra un armadio nella camera da letto il giovane si trova attualmente a domiciliare a disposizione del PM di turno Francesco Riccio numerosi sono stati controlli a soggetti già gravati da precedenti o comunque noti nel giro del consumo dello spaccio di stupefacenti della zona con l'intento di contrastare il fenomeno dilagante della vendita a basso prezzo di droghe a ragazzi giovanissimi Sbarco questa mattina alle 9 al porto di Pozzallo sono giunti su una nave militare inglese 369 migranti di cui 337 uomini, 12 donne, 4 sono incinte e 20 minori maschi i migranti sono stati soccorsi a largo delle coste libiche provengono dalla Nigeria, dal Gambia, Bangladesh, Mali Costa d'Avorio e Senegal dai primi controlli sanitari, gli extracomunitari starebbero tutti bene solo su tre donne sono state riscontrate ferite lacero contuse che sembrerebbero essere causate dalle condizioni a cui sono sottoposte durante la traversata sulla banchina del porto ad accoglierli i migranti, la task force del primo soccorso e le forze dell'ordine che sono già impegnate nelle indagini per risalire agli scafisti C'è stato un incidente autonomo nel primo pomeriggio di oggi sulla strada che collega la Modica Mare all'imbocco che porta al ponte Guerrieri nei pressi dell'ingresso della città di Modica proprio prima dell'intersezione in autocarro per causa ancora in corso di accertamento come vedete dalle immagini si è ribartato ed è finito fuori strada il mezzo è terminato la soccorsa sopra la vegetazione che vi insiste il conducente un comisano di 41 anni non è in gravi condizioni ed è stato trasportato dal luogo dell'incidente dal luogo dell'incidente al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica dove è rimasto in osservazione sul posto per i rilievi la polstrada e vigi del fuoco la protezione ambientale in quanto si è sversato del liquido dall'autocarro nel perimetro coinvolto dal sinistro per il manager dell'ASP 7 di Ragusa Maurizio Aricò l'area antistante del pronto soccorso del maggiore di Modica è da lasciare sgombera per il transito dei veicoli in emergenza il direttore Aricò però sottolinea che ogni legge ha le proprie eccezioni la possibilità di parcheggiare all'interno del piazzale antistante la sede provvisoria del pronto soccorso di Modica è da abbandonare il manager dell'ASP 7 di Ragusa Maurizio Aricò è stato chiaro il parcheggio e le aree adiacenti il pronto soccorso di Modica non devono essere utilizzate per parcheggiare mezzi diversi dall'ambulanza il famoso divieto di fermata che un ex agente di polizia municipale aveva fatto notare essere inutile e paradossale verrà sicuramente sostituito con un divieto di sosta lo scopo del numero 1 dell'ASP 7 è portare ordine non solo in riferimento alla possibilità di parcheggiare ma soprattutto in riferimento al paziente stesso che si presenta in struttura noi facciamo tutto questo per tenere fluide le vie di entrate e di uscita al pronto soccorso che naturalmente parlano di sicurezza dei pazienti perché pensate cosa sarebbe un'ambulanza che non riesce ad arrivare al pronto soccorso per delle macchine posteggiate o come è successo recentemente un autobot dei pompieri che non riesce ad entrare in ospedale perché ci sono delle macchine posteggiate per traverso che ostruiscono e questo è successo nei nostri ospedali recentemente il nuovo pronto soccorso avrà una camera calda ricordo a me stesso e a tutti gli ascoltatori che il sistema sanitario vuole andare verso un sistema in cui il paziente che ha un problema serio arriva a pronto soccorso con l'ambulanza del 118 non deve più arrivare con la macchina privata perché noi vogliamo iniziare il trattamento da casa allora chi ha un problema reale serio da pronto soccorso deve chiamare al 118 arriverà a casa un medico e un infermiere che valuterà la situazione e se necessario trasporterà il paziente in ambulanza questa ambulanza entrerà nella camera calda che è il posto più accogliente e più idoneo per sbarellare dall'ambulanza un paziente che ha bisogno di pronto soccorso e naturalmente l'ambulanza deve trovare un percorso assolutamente fluido ovviamente ogni regola ha le sue eccezioni al manager abbiamo inoltrato una domanda che alcuni telespettatori hanno appositamente richiesto facessimo utilizzando Facebook una madre ha posto l'ipotesi di dover accompagnare da sola il figlio con appendicite in corso al pronto soccorso posto il fatto che in quel momento per la madre l'autovettura è l'ultimo dei problemi in questione resta il fatto su come comportarsi cosa è giusto fare in questi casi? bene, ne abbiamo parlato sempre con il manager dell'ASP7 di Ragusa Maurizio Arrico si fanno le leggi e poi ci sono le eccezioni ma le eccezioni devono essere eccezioni quello che lei descrive è un evento che può capitare una volta ogni tanto forse sarà l'1% dei casi io dubito che il personale sanitario non aiuterà una mamma che ha un problema con un bambino e adesso la politica regionale il presidente della regione Rosario Crocetta sta lavorando sugli ultimi due fedelissimi da piazzare nei posti chiave della regione siciliana prima di andare via intanto la giunta tornerà a riunirsi domani sembrava un leggero vento di polemiche ma invece sembra che Palazzo d'Orlean stia per essere travolto da un oragano dopo le recenti contestazioni sulle nomine decise dal governatore Crocetta se da un lato questi sottolinea a gran voce il suo ruolo con tanto di decido io dall'altro tempo reggia per firmare nuovi nomi nella vana speranza forse che le acque si calmino il PD minaccia di non presentarsi in blocco mentre Sicilia Futura intima di uscire dal governo uno scenario non del tutto allettante dunque quello che si presenta al presidente della regione che se ieri aveva appuntamento con la giunta per occuparsi degli ultimi decreti prima del semestre bianco ha dovuto dedicarsi invece alle prese di posizione dei suoi alleati rimandando dunque l'incontro a Palazzo d'Orlean al tavolo di Crocetta infatti non tutti hanno ancora il loro segnaposto anche se si intravede già alla presenza del senatore Beppe Lumia della gradita alla lobello Maria Grazia Brandara all'IRSAP e di Francesco Calanna all'ente di sviluppo agricolo senza dimenticare i già seduti Antonio Fiumefreddo per escossione Sicilia Antonio Ingroia a Sicilia e Servizi e ovviamente Samy Ben Abdelali alla presidenza dell'IRCAC non faremo da spettatori a questa occupazione di poltrone con nomi politici del suo movimento hanno minacciato dal PD accetteremo solo nomine interne tra i dirigenti della regione per chiudere la partita e andare avanti in caso contrario infatti i Dem si alzeranno dalla giunta una corsa contro il tempo dunque per il governatore a caccia di soluzioni che gli permettano di rafforzare le sue fila in vista dell'imminente voto E in dante il presidente della regione Rosario Crocetta interviene sull'argomento scrivendo che da circa una settimana la questione delle nomine sta assumendo sulla stampa una rilevanza eccessiva voglio precisare che né io né il mio governo aggiunge il governatore ci strapperemo le vesti per quelle nomine la legge attribuisce all'esecutivo le nomine negli enti direttamente al presidente della regione quelle delle partecipate tutto qui non c'è alcuno scontro per quel che mi riguarda è una normale discussione che include anche la possibilità di non fare alcuna nomina anche perché qualcuno c'è già in quegli enti riprende l'iter del piano regolatore generale a Ragusa è scaduto ieri il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini e delle associazioni adesso la giunta di Palazzo dell'Aquila ha avviato il percorso per predisporre lo schema di massima che successivamente sarà sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale Dopo le polemiche per la bocciatura della variante dell'articolo 48 del piano regolatore generale sulle norme tecniche di attuazione riparte l'iter per la predisposizione dello schema di massima che verrà poi sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale di Ragusa è scaduto ieri il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini adesso l'amministrazione tenendo conto anche delle istanze avanzate predisporrà il documento che dopo l'approvazione del civico consesso verrà inviato a Palermo per essere sottoposto all'esame VAS valutazione ambientale strategica l'atto per la giunta Piccitto non è più procrastinabile l'iter è abbastanza lungo però confido anche nel fatto che molte forze politiche ma c'è un grande interessamento da parte di tutta la città di avere uno strumento urbanistico che è un valore assoluto per la città è un'esigenza ormai non più procrastinabile anche per tutto quello che riguarda la gestione del territorio quindi da questo punto di vista credo che è un iter nel quale necessariamente tutti sono impegnati tutti devono dare il proprio contributo perché l'obiettivo è quello più grande è quello di avere uno strumento urbanistico finalmente aggiornato a quelle che sono le esigenze della città per il primo cittadino è necessario dotare la città capoluogo di un nuovo strumento che risponda di più alla realtà urbanistica esistente e vada verso una strategia di sviluppo del territorio nel rispetto dell'ambiente nello schema infatti non è escluso che venga reinserito il provvedimento che già in passato ha provocato forti frizioni tra maggioranza ed opposizione ossia lo stop al consumo di suolo agricolo ai fini delle estrazioni degli idrocarburi Noi all'interno del piano regolatore è chiaro che caleremo quelle che sono un po' la nostra impostazione lo faremo quindi all'interno di quello strumento Rebo che anzi parlava della questione dell'articolo 48 quindi delle aree in verde agricolo, della riduzione del consumo di suolo e tutto quello che riguarda anche la tutela del nostro territorio quindi tutte queste saranno per noi delle linee guida che comunque seguiremo nella stesura del piano regolatore ovviamente insieme a questo ci saranno poi tutte le altre esigenze e tutte le altre osservazioni che proveranno dai cittadini e dall'associazione Ed è nuovamente emergenza rifiuti in Sicilia la regione infatti tramite un'ordinanza ha imposto di conferire rifiuti da Palermo a Motta Sant'Anastasia in quanto la vasca di Bello Lampo è quasi al collasso l'ordinanza dunque firmata dal dirigente del settore rifiuti è stata emanata come misura preventiva per evitare il riempimento della vasca che si esaurirebbe in 5 mesi da Bello Lampo a Motta Sant'Anastasia a decidere il nuovo conferimento dei rifiuti nel Catanese è stata la regione che venerdì scorso ha emanato senza troppo clamore un'ordinanza la RAP dopo aver effettuato il trattamento dei rifiuti in discarica dovrà spostarne ogni giorno 300 tonnellate a Motta Sant'Anastasia L'ordinanza viene emanata come misura preventiva evitando così il riempimento eccessivo soprattutto in vista dell'estate periodo in cui aumentano i residenti delle cittadine turistiche del comprensorio tra i costi di viaggio e di conferimento il conto alla RAP ammonterà a 11 milioni annui considerando che ogni tonnellata verrebbe a costare 100 euro ogni giorno i costi raggiungeranno quota 30.000 euro il tutto condito dagli scontri in assessorato in cui l'assessore, Vania Contrafatto ha chiesto ieri la rimozione del direttore generale Maurizio Pirillo dirigente del settore rifiuti della regione che ha firmato la nuova ordinanza le novità del pieno rifiuti sono anche l'effetto della chiusura della discarica di Melilli in seguito all'inchiesta della procura di Catania su un giro d'affari che ha coinvolto anche tre funzionari regionali 430 tonnellate al giorno prodotte a Siracusa e nei paesi limitrofi dovranno essere smaltite nella discarica di Lentini gestita dalla Sicula Trasporti così come le mille tonnellate al giorno prodotte fra Palermo, Trapani, Gela e Ragusa saranno destinate alla discarica di Motta Sant'Anastasia la OICOS preoccupati i sindacati Fit Cisl tra costi di viaggio e di conferimento a carico della RAP la regione mette a rischio l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda troppo degrado in Viale Kennedy a Catania che da zona di attrazione turistica si è trasformata in zona di totale abbandono lo denuncia il capogruppo di Grande Catania Giuseppe Castiglione che ai nostri microfoni lancia un appello all'amministrazione affinché si intervenga urgentemente per il Viale Kennedy e per le spiagge libere di Catania serve un piano di sviluppo che riguardi tutto l'anno per le grandi potenzialità che questa parte di Catania sa dare ma che per colpa del totale disinteresse di questa amministrazione restano assolutamente inespresse a dichiararlo il capogruppo di Grande Catania Giuseppe Castiglione che denuncia uno stato di profondo abbandono lungo una vasta aria che continua a essere in condizioni penose piena di rifiuti di ogni tipo e vittima per mese dei continui raid vandalici che hanno distrutto tutto la sera poi diventa un luogo dove appartarsi dove la gente che lavora nelle strutture ricettive della zona teme di essere derubata in ogni momento da qui è fondamentale lavorare per la sicurezza del sito addetto Castiglione si parla tanto del turismo, si parla tanto di cose importanti per la città chiedo all'amministrazione immediatamente di riaprire le spiagge libere in tempi certi non come sono state fatte negli altri anni e credo che siccome il sindaco e anche il presidente dell'area metropolitana e là le strade sono sia comunali che provinciali chiediamo immediatamente al sindaco e al presidente dell'area metropolitana di intervenire sul viale Kennedy per quanto riguarda sia l'illuminazione per quanto riguarda che sappiamo benissimo che ci sono un sacco di potature degli alberi un sacco di sporcizia di queste cose qua il degrado per il nostro turismo non si può fare e quindi riteniamo che immediatamente l'amministrazione e soprattutto il sindaco si impegni per questo ci fermiamo adesso c'è la pubblicità tra poco bentornati in studio si è tenuta ieri sera su iniziativa del laboratorio di rigenerazione urbana un incontro dibattito con l'amministrazione comunale per discutere del piano integrato di Iungi di recente approvato i lavori sono stati aperti dal sindaco Enzo Giannone che ha illustrato per grandi linee le ultime fasi di istruttoria che hanno portato all'approvazione del progetto e l'obiettivo di creare a Iungi una nuova centralità urbana la nuova visione urbanistica del quartiere connessa alla rifunzionalizzazione dell'area del campo sportivo costituirebbe una complessiva opera di cucitura delle diverse anime del quartiere al fine di restituire adesso una nuova centralità in questo senso ha spiegato l'assessore Viviana Pitrolo saranno trasferiti alcuni uffici comunali a Iungi inserire soggetti svantaggiati attraverso l'agricoltura sociale è stato questo il tema affrontato oggi dall'Università di Catania nella giornata mondiale dedicata ai servizi sociali offrire opportunità di recupero attraverso il contatto con la natura è l'obiettivo di chi lavora nell'agricoltura sociale ed è ormai assodato che questo tipo di reinserimento contribuisce a miglioramento della qualità della vita e aiuta ad affrontare con nuove energie il futuro di questo e di altro si è parlato oggi durante l'incontro comunità e sviluppo attori, diritti e territori promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania in collaborazione con l'Ordine Professionale Regione degli Assistenti Sociali un incontro che cade proprio nella giornata mondiale del servizio sociale grazie ad esempio all'agricoltura ci sono aiutati diversi migranti nel processo di integrazione così come si possono aiutare coloro che sono minorenni, autori di piccoli reati reinseriti nella comunità così come anche persone penalizzate l'agricoltura è stato ed è e continua ad essere un possibile volano di sviluppo di questa terra probabilmente bisogna ragionare molto di più su come costruire percorsi di sviluppo e come costruirli all'interno e con le comunità che vivono su questi territori a partire da comunità che sono state profondamente che hanno vissuto delle vite molto disagiate attraverso percorsi di agricoltura sociale di riscatto ai migranti cioè di inserire i migranti in un percorso di legalizzazione di riqualificazione professionale e di recupero di una legittimità e di un ruolo all'interno di un contesto nuovo per loro Si è tenuto oggi un incontro all'ITS Archimede di Modica per approfondire alcuni aspetti legati alla mobilità dei docenti nelle scuole a chiarire i dubbi degli insegnanti la UIL scuola Assemblea sindacale della UIL questa mattina all'Istituto Archimede di Modica ad essere coinvolti i docenti dell'ambito 23 e 24 in questi sono da ripartire le città facenti parte del territorio ragusano al centro del confronto tra docente e sindacato la mobilità qualora si dovesse verificare la perdita di cattedre nell'eventualità di una mancata formazione classe i docenti avranno la possibilità di usufruire di un percorso che potrebbe sotto alcuni punti di vista alleggerire il carico di problemi che si registreranno con il decadimento di una classe e quindi con il conseguente in base alla graduatoria spostamento di scuola che ne potrebbe scaturire per un docente a chiarire i dettagli anche in riferimento alla legge 107 della UIL scuola abbiamo garantito rispetto alla 107 che prevedeva che i soprannumerari addirittura andassero qualora avessero perso il posto in regione abbiamo garantito loro intanto la possibilità di rimanere all'interno della provincia non solo nel trasferimento d'ufficio abbiamo garantito il trasferimento su scuola è ovvio che ci potremmo trovare di fronte a dei docenti che appartengono a delle classi di concorso particolari immagino una 017 una 019 dove comunque i posti sono pochi in ogni caso nel caso non dovessero trovare posto rimarrebbero in esubero però sempre all'interno della provincia l'Italian Film Festival USA il festival del cinema italiano negli Stati Uniti ospiterà nei giorni di Pasqua il corto documentario di Alessia Scarzo dal titolo Vasa Vasa dal 30 marzo al 9 maggio in 12 città statunitensi Vasa Vasa sarà proiettato per far conoscere la vibrante fede di Modica in Maria Madre il corto documentario sarà proiettato anche nel cinema oltre che al Detroit Institute of Arts alla Washington University di St. Louis alla University of Chicago 12.000 gli spettatori dell'ultima edizione del festival e sarà chiusa il traffico veicolare la via Michele e Polino a Modica da giovedì prossima venerdì dalle 7 alle 17 l'interdizione alla circolazione da parte della polizia locale si è resa necessaria per consentire la rimozione di un muro di contenimento crollato 8 anni fa e mai ripristinato l'impresa Piero Chipinti di Modica dovrà adesso intervenire per il ripristino del muro e il rifacimento del manto stradale sino all'ente liceo convitto non ci sono ulteriori aggiornamenti concludiamo qui questa edizione di MTG grazie come sempre per averci seguito vi ricordo che subito dopo andrà in onda meraviglioso con Salvo La Rosa grazie ancora buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti